Ciao, in questo video rispondo ad una domanda che mi ha girato il mio amico Massimo, una domanda di Miriam. Ciao Martinini, sarà molto palese, so di avere talento. Mi hanno sempre detto che potrei fare qualsiasi cosa nella vita per l'intelligenza che mi caratterizza. Sono molto positiva, sempre e comunque, capace di grandi cose, ma non riesco a capire perché sono svogliata. Faccio le cose sempre all'ultimo minuto. Mi impegno e neanche al massimo solo quando è troppo tardi e sono costretta. Questo mi rende frettolosa e, nonostante resti perfezionista e potrei chiedere un controvalore alto, mi sento in colpa per non essermi dedicata e non riesco a farmi pagare il giusto. Come posso cambiare questa mia predisposizione a procrastinare? Questo mi essere sempre in zona cesarini. Lo diceva sempre il mio mister di palavoro ed il mio ex titolare d'azienda per cui facevo la rappresentante. So solo una cosa, che se riuscissi ad impegnarmi davvero dall'inizio alla fine e non solo alla fine avrei già raggiunto grandi risultati. Invece non ho costruito nulla nella mia vita nonostante i miei 40 anni. Ok, questa è una domanda molto interessante che offre diversi spunti di riflessioni. Il primo riguarda il talento. Nei corsi e percorsi dal vivo online, insisto molto su questo punto, il talento è sopravvalutato, è una trappola o una scusa. Perché dico è sopravvalutato? Perché è vero, aiuta nell'avere successo nella vita, ma ci sono tanti altri fattori altrettanto importanti. Perché è una trappola? Perché quando ci si affida solamente al talento e non si coltivano questi altri fattori si finisce un po' come Miriam ed è una scusa perché molti dicono ah io potrei, farei, mi piacerebbe se però non ho il talento. Non è vero, ognuno ha i propri talenti. Il punto qual è? Il punto è che sul talento potrei citarti tutti gli studi che ho fatto in questi vent'anni sul fatto che non è un fattore critico di successo, ma non mi dilungo perché la prova provata che il talento è necessario, non è sufficiente per aver successo nella vita, ce l'ha appena data Miriam con la sua lettera e ahimè purtroppo Miriam è in buona compagnia. Ci sono tante persone che hanno talento e ahimè non hanno successo. Quindi andiamo avanti nei vari punti che volevo toccare in questo video. Il prossimo punto è, allora se non dipende dal talento il successo da che cosa dipende? Dipende da tanti fattori, dall'impegno, dalla disciplina, dalla costanza, ma il punto di partenza è la consapevolezza. Cosa intendo per consapevolezza? Intendo vedere chiaramente, ma vedere chiaramente che cosa? Allora vedere chiaramente che cosa accade nel mondo esteriore e che cosa accade in quello che io chiamo il mondo interiore. E per spiegarmi ti racconto una storia. Undici anni fa, io all'epoca pesavo 98 chili, considera che adesso sono 82, ed ero bello bello nel divano, con birretta da una parte, alla carne dall'altra, e mi ricordo come se fosse adesso che una parte di me diceva, bisognerebbe che andassi a fare un po' di attività fisica, non mi fa star bene, non mi fa star bene stare qui piantato sul divano, bla bla bla, e però stavo col culo di pietra piantato sul divano. Lì ho iniziato a vedere che cosa? Che dentro di noi c'è un bambino di tre anni, tre anni e mezzo, che pesa 220 chili. Di solito uso la fotografia di un lottatore di sumo e poi ci mette la faccina di un bambino piccolo. Questo bambinetto io lo chiamo ego infantile. Perché lo chiamo così? Perché ha tutte le caratteristiche, diciamo così, negative dei bambini piccoli. I bambini piccoli hanno caratteristiche positive, tipo curiosità, persistenza, creatività, hanno però anche caratteristiche negative, tipo vogliono evitare il disagio, vogliono evitare la fatica, l'emozione dominante, la paura, la paura del buio, la paura di queste cose nuove. Ecco, questi tratti, adesso non vi sto dilungare, dopo ti vi darò degli spunti di approfondimento per chi vuole, sono quelli che caratterizzano questo personaggio del mondo interiore. Quindi il primo passaggio è vedere che c'è questo personaggio. Il secondo passaggio qual è? Il secondo passaggio è vedere che noi non siamo un monolite unico. Allora l'errore che facevo io, non vedendo chiaramente come stavano le cose, è che io vedevo che c'ero io. Io come un monolite unico. Di fatto, come accennavo prima, ho scoperto che siamo fatti di parte. E allora non ti aiuta a dire io sono svogliata. Non ti aiuta a dire, anche se è un'espressione che utilizziamo tutti, ma non è una descrizione accurata della realtà. Non descrivi chiaramente quello che succede. Quello che succede è che tu hai un potenziale, vorresti fare delle cose in base ai tuoi bisogni, ai tuoi valori, ai tuoi passioni e c'è una parte di te che è svogliata. E adesso questa parte, così come tu hai un nome, Miriam, non so il cognome, tu di nome ti chiami Miriam, di cognome ti chiami puntini puntini e c'è dentro di te una parte che di nome si chiama ego e di cognome si chiama infantile. E questa parte che cosa fa? Fa bene il suo mestiere. Il suo mestiere è quello di rimanere nella sua zona di comfort, dove non fa fatica, dove resiste ai cambiamenti, al disagio che fare le cose che serve fare per ottenere il successo è necessario fare. Così semplice. E allora qui cos'è che subentra? Che se lui fa il suo mestiere, tu e tutti noi dovremmo fare il nostro mestiere. E qual è il nostro mestiere? E' amministratore delegato della me stesso SPA. Quella di, se vuoi usare un'altra metafora, di capitano della nostra anima. Se ne vuoi usare un'altra è quello di architetto della nostra vita. Il primo compito che ha questa parte di noi è vedere quando entra in gioco l'ego infantile. E poi cosa fai? Ora qui racconto un altro aneddoto. L'unica volta che ho usato le maniere forti con i miei figli l'aria. Eravamo a Londra, all'epoca vivevo a Londra e dall'altra parte della strada, eravamo al semaforo, vede un suo michetto. Allora nell'entusiasmo fa per attraversare e con un riflesso proprio la strattono e la tiri indietro perché altrimenti stava per essere schiacciata da una macchina. Allora la domanda che faccio in aula, la faccio anche a te e agli altri che guardano questo video. Se tu sei al semaforo con un bambino di 3-4 anni, chi è che decide quando attraversare la strada? Tu o questo bambino piccolo? La domanda è retorica perché la risposta è molto chiara. Nella vita è accesa cosa? L'amministratore delegato della mestiere sospa cosa fa? Prende la responsabilità delle decisioni, vede, ecco la consapevolezza di cui parlavo prima, che c'è una parte che dice non ho voglia, è bravissima a tirare fuori delle scuse, perché? Perché il suo mestiere è l'ego infantile fa benissimo il proprio mestiere e l'amministratore delegato della mestiere sospa cosa deve fare? Deve far bene il suo e il suo è vedere le scuse che dice l'ego infantile e poi fare ciò che va fatto nonostante i capricci dell'ego infantile. Dicevo prima approfondimenti, se vuoi approfondire questi temi ti segnalo innanzitutto un articolo del mio blog, il blog è mircobosi.com, l'articolo si chiama autosabotaggio e parla oltre che della procrastinazione di tanti altri modi con cui ognuno di noi sabota a se stesso, quindi si dà la zappa nei piedi e pone degli ostacoli autogenerati a raggiungere i propri obiettivi e realizzare il proprio successo, quindi c'è il perfezionismo, c'è la procrastinazione, c'è non avere obiettivi chiari e se leggi l'articolo vedrai tutte le forme di autosabotaggio, vedrai che il responsabile è il burattinaio, lo chiamo io, è l'ego infantile, troverai qualche strategia per affrontarlo e così dalla consapevolezza di che cosa c'è nel mondo interiore, trovi anche qualche spunto per gestire questo personaggio. L'altra cosa che ti consiglio a te e a chi vuole approfondire questi temi è iscriviti al progetto coltiva la crescita coltivalacrescita.com e ogni giorno ricevi una mail gratuita, a leggerla impieghi un minuto, poco più, così il tuo ego infantile dopo un po' non si annoia, un'altra caratteristica è che l'ego infantile ha una soglia di attenzione molto molto bassa, quindi tengo queste mail molto molto corte, così l'ego infantile non si annoia e non ti fa spegnere il computer, ne ricevi uno ogni giorno, quindi facili da leggere e ci sono degli spunti per allenare le competenze traversali che ti aiutano ad avere successo nella vita e ti aiutano anche a ricevere spunti su come affrontare l'ego infantile e altre proposte di approfondimento. Spero di vederti dall'altra parte o nel blog o nel progetto coltiva la crescita o in tutti e due e in ogni caso ti faccio un grande in bocca al lupo per la tua crescita benessere e prosperità